Enrico Vizza, Will Lombardia, giustamente notavamo dal punto di vista sindacale che l'accordo che viene firmato oggi dalla Premier e dal Governatore Fontana parla di sviluppo e coesione, immaginiamo che le ricadute possano e debbano essere anche in termini occupazionali. Sì, due parole fondamentali, sviluppo e coesione perché di mezzo c'è il lavoro, ci sono le persone, ci sono i lavoratori, ci sono le famiglie, quindi noi bene che ci siano finanziamenti, bandi, però dobbiamo fare in modo che questi bandi vanno a supportare maggiormente un lavoro di qualità, un lavoro più sicuro e soprattutto una maggiore attenzione perché il precariato poi indebolisce il potere d'acquisto dei lavoratori e dei lavoratrici. Senta, ma a quanto pare la proposta sul salario minimo di fatto è stata rigettata, lei come la pensa in proposito? Noi come Will Lombardia non abbiamo mai detto che siamo contrari al salario minimo, abbiamo sempre detto che è un percorso, è semplicemente uno degli strumenti, noi crediamo che da questo punto di vista ci debba essere una maggiore attenzione nel valorizzare quello che è la contrattazione nazionale e noi aggiungiamo che, come abbiamo chiesto anche, purtroppo abbiamo portato anche a delle ore di mobilitazione, che venga valorizzata con la contrattazione di secondo livello che è quella che consente ai lavoratori e alle imprese di riuscire a aumentare il salario, quindi detassando gli aumenti salariali contrattuali, secondo noi aumenta anche il netto in busta paga.